Ciao, come state? Tutto bene? Passate bene le feste? Sì, avete mangiato, avete festeggiato? Mi raccomando, domani dobbiamo raccontarci che cosa abbiamo ricevuto per Natale alle 9 e un quarto nella nostra subito diretta. Io sono qui perché, mannaggia, è proprio vero che sono dei pasticcioni, sono qui perché vi faccio vedere uno dei regali che mi sono arrivati proprio in occasione del Natale. La macchinina nuova, ebbene, aspettate lì che adesso arrivo. La macchinina nuova che però, ahimè, ha fatto sì che io dovessi dire addio all'altra macchina che mi ha portato in giro, mi ha fatto raccontare tantissimi posti e anche voi avete avuto modo di vedere questi posti. Ma è anche vero che, insomma, una macchina nuova mi permette di fare nuovi viaggi, quindi raccontare nuove cose. Chissà dove vi porterò con questa macchina. Unico neo è che, insomma, con tutti questi nomi, lettere, P, R, N, D, S, cioè non ci capisco ancora una mazza e niente, e quindi devo ancora imparare. Va bene, ma non importa, insomma, imparerò e vi porterò per luoghi sperduti, lontani, a raccontarvi qualcosa che magari potete, non so, suggerirmi anche voi nei prossimi viaggi. Un 2022 speriamo, nonostante, insomma, pandemie e cose varie, che ci dia la possibilità veramente di viaggiare. Ma la cosa importante è che voi siate stati bene, che non abbiate mangiato troppi panettoni, altrimenti poi vi viene la pancina, ma poi insieme magari facciamo qualcosa per mandarla giù, qualche dieta. Ma tutto questo è naturalmente per darci appuntamento, come vi dicevo, domani, prima dell'ultima, praticamente ultima diretta, prima della fine 2021. Ci faremo quindi ancora gli auguri, ma sono curiosa di sapere invece che cosa avete ricevuto voi. Per cui vi aspetto, mentre io vado a fare un viaggio, un giretto, per imparare, per impratichirmi con la macchina nuova, vi do appuntamento domani mattina alle 9 e un quarto. Vi aspetto puntuali, mi raccomando. Ciao!